Il Ponte Vomano per continuare a stupire, il Lanciano per riprendere la corsa che conduce ai play-off. I gialloneri di Mister Piccioni devono rinunciare a Gava e Polisena piedati in settimana dal giudice sportivo. Scendono in campo con un rombo di centrocampo con Ancelo Cernaz vertice basso e Valentino Cernaz a suggerire per la coppia d'attacco formata Dature e Di Stefano. Mister Pasculli recupera le zai tra i pali che torna in campo dopo la squalifica remediata nel convulso finale del Fadini. Schiera Campagnolo Bocchio, unica punta, supportato da Rei, Priorelli e Bodo. Partono subito forti i locali e al quarto minuto sfiorano il vantaggio con Di Stefano che anticipa Scipioni su un bel centro di Valentino Cernaz. Sempre Valentino Cernaz particolarmente ispirato, al sedicesimo prova la conclusione personale. Al minuto 28 ancora Cernaz ma Elezzai non si fa sorprendere. Al trentunesimo è sempre Cernaz, questa volta dall'interno dell'area di rigore raccoglie un cross di Ture, si gira ma la palla finisce alta. Con le immagini di Flavio Forcellese andiamo nella ripresa. Pronti via, una buona occasione per Ture, ma il risultato non si sblocca. Quando meno te lo aspetti arriva la doccia girata per i locali. Al minuto 51 da una punizione di Bertino calciato magistralmente è Tissone a sventare più in alto di tutti e ad insaccare alla prima vera occasione frentana. I gialloneri locali hanno subito l'occasione per pervenire al pari, ma questa volta è il palo a dire di no alle onze. Al quindicesimo i rossoneri provano a legittimare il vantaggio con una bella conclusione direi da calcio franco. Al trentaseiesimo la palla del pari è sui piedi di Ture, ma svirgola malamente. Al minuto 40 è Leonzi da buona posizione a calciare, ma il risultato è sempre uguale. L'ultimo brivido all'ottantanovesimo lo regala Elezai con un'uscita di pugno sempre su Leonzi. Poi più nulla. Da segnalare l'allontanamento nel recupero di Mister Piccioni. Vittoria che consente a Lanciano di riprendere la corsa verso i play-off. Per i Terramani una sconfitta immeritata, alla luce delle tante occasioni non concretizzate. Il finale dal campo Urgeri di Villa Vomano è Ponte Vomano 0 Lanciano 1. Allora siamo con il direttore Dorazio. Direttore, domenica scorsa dopo la partita era molto amareggiato, oggi si aspettava una reazione d'orgoglio da parte dei ragazzi. La reazione c'è stata. Sì, diciamo che la reazione c'è stata anche perché venire a vincere su questo campo non è semplice. Quindi sono contento per questi tre punti e dobbiamo dare continuità a questo atteggiamento. Appunto, il Ponte Vomano era una delle squadre più in forma. All'inizio un po' contratti, poi nella ripresa comunque dopo il vantaggio vi siete difesi con ordine, non avete rischiato poco e nulla. Sì, abbiamo rischiato poco e nulla anche se temevamo questa trasferta perché il Ponte Vomano è una squadra che sta dimostrando già da tante partite, è una squadra che soprattutto in casa fa grandi risultati. Dopo considerando anche il terreno di gioco che non è semplice giocarci su, anche se noi devo ammettere che anche il nostro non è che sia tanto buono. Il calcio è così, noi oggi almeno meritiamo il pareggio, però nel calcio chi segna c'ha sempre ragione, quindi noi siamo stati secondo me imprecisi negli ultimi 20 metri, abbiamo creato pochi pericoli, qualche occasione l'abbiamo mancata e abbiamo perso. Nulla di grave, il cammino continua, sapevamo che il Lanciano era una buona squadra, adesso dobbiamo rimboccare le maniche, andare avanti e domenica dopo domenica riconquistare i punti per la salvezza. Speriamo, matematica.